presto sarà tutto finito io non ce la faccio più, voglio uscire ma tu che cosa vuoi da me? hai paura? tuo padre è morto trent'anni fa con lui moriranno pure le Brigate Rosse vedrà tutti i tuoi compagni marcire in galera domani mattina il presidente sarà giustiziato io non ho morti sulla coscienza vuoi sapere che gli ho detto va bene? va a ammazzarmi! no, va a ammazzarmi, è mostrata tu Claudia! i miei compagni avevamo un'idea questo stronzo è quello che ha sentiato in pantelello vivo fino alla fine quindi sta assento Claudia! grazie a tutti!